Buongiorno a tutti, sono Lorenzo Bassetti, un istruttore del centro CS Formazione. Oggi siamo a Latina, dove insieme andremo a ripassare le manovre principali del primo soccorso. Voi avete mai fatto un corso di primo soccorso nel vostro passato? Io mai. Ma qualche discorso c'è mezzo nella prossima soccorso. Ok, avete mai fatto qualche corso passato sul primo soccorso, BLSD? No, BLSD. Sì, ma tanti anni fa. Tanti anni fa, sì. Bene, prima di cominciare con le domande, ricordiamo che il corso di BLSD, Basics, Live, Support e Defibrillation, andrebbe fatto almeno una volta l'anno. Ma entriamo subito nel vivo della questione. Allora, cosa facciamo se troviamo una persona a terra, che non si muove? La prima cosa. Non troviamo se respira. Prima? Ma avvicino, cioè nel senso, vedo anche che non so magari se si è fatto male. Se è grosso, se quantomeno per me abbasso, magari a una volta faccio e metto qualcosa sotto la testa. Se è svenuto, agli alzo le gambe. Ok, prima però di avvicinarci. Au, ciao. Iniziamo subito nel dire che la prima cosa importante è la sicurezza. Noi non ci avviciniamo al paziente se l'ambiente intorno a noi, vicino al paziente, non è in sicurezza. Abbiamo visto che l'ambiente è sicuro, ci possiamo avvicinare. Ok. Prima di vedere se respira, vediamo, lo chiamiamo, no? Lo chiamiamo. Ok, lo chiamiamo. Noi sei cosciente. Bravissimo, vediamo se sei cosciente. Sollicita sempre per vedere se... Si risponde. Si risponde. Quindi, come si chiama, che giorno è, cosa del genere. Ok, se non ti rispondi, niente, cosa facciamo? Vediamo se secondo noi ha fratture le visioni, quindi è il caso di muoverlo. Maggio non risponde. No. Allora, la prima cosa da fare, una volta constatato che la persona chiamata localmente non ci risponde, non ci risponde neanche lo simbolo rosso sul bosco del trapezio, è una. Riusciamo a gestire da soli questa emergenza? Io penso che avrei bisogno di qualcuno, eh. In tal caso, se non riesco a mantenere lo sveglio, alletto subito l'ambulanza. Esatto. E allora, qual è il numero da chiamare in caso di emergenza? E' il 118. O 113 o 118. 113 o 118 e non vi ricordo. Esatto. Ma non solo. Ricordo a tutti che stiamo andando incontro al numero unico per le emergenze, che sarà poi il 112 in tutta Europa. Una volta esserci accertati che la persona chiamata non ha risposto, abbiamo chiamato i soccorsi e a questo punto la cosa dovete fare è controllare la respirazione. Come controlliamo se respira? Controllando la cassa toracica e i respiratori. Avvicinandosi al naso, alla bocca, alle vie aeree. Aspetta, allora, prima cosa visiva se c'è una radiazione del toracio, quindi se c'è la respirazione, ascolto, ti metti vicino ai punti respiratori che sono su bocca, vedere se c'è respiro. Ok, per controllare la respirazione è molto semplice, vi faccio vedere adesso le manovre da effettuare. Ci mettiamo innanzitutto in ginocchio, le due ginocchia, una all'altezza della spalla, una all'altezza del bacino, e cosa facciamo? Mano acceso e la fronte. Ricordiamo se dentro non ha niente, lì, o varie istruzioni. Gli prestendiamo la testa, apriamo la bocca, mettiamo la guancia sopra la sua bocca, sguardo verso il torace e contiamo 10 secondi. 1, 2, 3, 4, 9 e 10. Ok, abbiamo visto che la persona non sta respirando, quindi cosa facciamo? Quindi facciamo massaggio cardiaco. Dopodiché massaggio cardiaco. Grazie, siamo quindi massaggio cardiaco. Allora, massaggio cardiaco con la respirazione a focca. Massaggio cardiaco è tanto che bisogna stendere la testa, cercando di spingere sul mento, in modo da ristendere il più possibile i piedi respiratori. E come mettiamo le mani? Vediamo se vi lo ricordate. Sullo sterno. Sterno, parte centrale. La quinta costola, questo è un bel ricordo, quinta costola, si comprime le mani, vabbè, si incrociano. Così. Prendi io devo cercare di mettermi il più perpendicolare possibile rispetto al paziente. Ottimo, la posizione è molto importante. Ok ragazzi, la posizione delle mani è questa qui, una mano sopra l'altra, tenendo le dita in alto è possibile. E quante volte dobbiamo fare il massaggio cardiaco? Due, tre. Tre. Un po' pochete. Dieci. Ah, un pochettino di più. Trenta? La trentina, per esempio. Esatto, 30 compressioni e due ventilazioni. Vi faccio vedere come vanno effettuate. Metto le mie mani al centro del traccio, in modo da prendere la parte del terzo medio inferiore dello sterno, con l'indice sopra il capenzolo, prendo le mie mani in questo caso, vado a massaggiare sullo sterno del traccio 30 volte, a una frequenza di 120 compressioni al minuto, come faccio vedere io. Uno, due, tre, quattro, cinque, 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 cinque. Ok, una volta finite le trenta compressioni, perdendo un meno tempo possibile, facciamo le due ventilazioni. La mano AC sulla fronte, chiudendo il naso, libero estendendo la testa, controllando sempre che dentro non ci siano mostruzioni. Facciamo due ventilazioni, una, circa un secondo. Uno, e due. Si continuano trenta massaggi. Quina quando si continua però a massaggiare il paziente? Sperando che si riprenda. Fin quando tento respirare vedo che sto a dire. Finché non arrivano i soccorsi. Se arrivano i soccorsi, se riprende a respirare ho coscienza. Ok, la terza. Ok ragazzi, ma la terza opzione, quella che si dimentica un po' a tutti, è quella che ci possiamo fermare al massaggio e al ventilare, quando è passato molto tempo. Ad esempio, quando si trovano in posti veramente isolati, i soccorsi fanno fatica per rimanere tempi brevi e noi siamo da soli a farne avventurare il massaggio e dopo un po' siamo a sfidere. Eh, 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 siamo venti. Ragazzi, abbiamo visto quanto sono semplici le manovre di primo soccorso del VLS e quindi quanto è facile poter salvare una vita solo con il potere delle nostre mani. Quindi vi invito, vi esorto, anzi, frequentare i nostri corsi. Ciao e al prossimo video. Ciao. Ciao.